In piedi ho un attimo di strutture, un cavallo è partito, è un problema dell'altro, ma non c'è problema, è pronto nuovamente. In piedi per voi, per il pubblico di Sistema di Latina. Si vogliono anni e anni di preparazione sia del condottore che dei cavalli che porta ogni volta nelle piazze di tutta Italia con il suo spettacolo di Trian Reutti, qui per voi questa sera.